Il centro storico di Bova Marina si veste di nuovo con l'abitumazione delle strade che dimostra ancora una volta il progresso inarrestabile di quella strategia di risanamento del paese messa in atto dall'amministrazione Crupi. Sono stati infatti svariati gli interventi della giunta comunale per determinare un sinolo perfetto nella vita dei bovesi, curando di pari passo gli aspetti estetici ed essenziali della località marittima. Solo per fare alcuni esempi oggi il paese è al sesto posto delle spiagge libere più belle, fiorente di cultura, sport, rispetto dell'ambiente con una differenziata che ha raggiunto livelli inaspettati. Non mi resta che porgervi l'invito più caloroso a visitare Bova Marina e addentrarvi negli eventi per tutto il mese di agosto che si preannunciano essere fantasmagorici.